Musica Presentata quest'oggi la grande festa della città per sabato 5 settembre, un appuntamento molto molto importante. Un appuntamento importante che in qualche modo conclude il momento caldo dell'estate, quindi l'animazione più imponente. Poi il mese di settembre continuerà con altre iniziative, anche perché comunque abbiamo visto che lo stesso mese di settembre vede una stagione più lunga, quindi sarà comunque frequentato da turisti e da ospiti e questo ci fa ovviamente piacere. Dicevo la festa della città, una grande partecipazione di istituzioni pubbliche, le iniziative del comune, l'orchestra sinfonica, il casino, il museo, la biblioteca, tutte in piazza per fare animazione soprattutto musicale ma anche sport, danza, musica in generale e poi anche tanta partecipazione da parte di soggetti privati, quindi locali, che hanno voluto partecipare mettendo a disposizione la musica ma con un sostegno fattivo e concreto del comune che ha sostenuto le spese della CIAE. Questo proprio perché vogliamo in qualche modo favorire quanto più possibile il progetto di Sanremo Città della Musica a cui devono poter partecipare tutti. Come sappiamo stiamo costruendo un rapporto con la direzione, anzi la presidenza nazionale della CIAE proprio per rendere ancora più concreto e tangibile questo progetto di Sanremo Città della Musica per poter accedere anche ad agevolazioni ed ampliamenti della possibilità di utilizzare la CIAE.